Fissato per il 27 gennaio prossimo alle ore 11 presso l'aula magna Angelo Darrigo dell'Istituto Tecnico Commerciale ed Aeronautico Fabio Besta di Ragusa, un incontro dibattito con gli studenti del quinto anno dell'indirizzo aeronautico. Alla conferenza sono stati invitati il presidente dell'ENAC Vito Riggio, il direttore ENAV della Torre di Controllo di Catania e Comiso Massimiliano Floris, il preside della Facoltà di Ingegneria Aerospaziale dell'Università degli Studi Core di Enna Giovanni Tesoriere, il presidente della SOAC, Rosario Di Bennardo, e l'amministratore delegato della stessa società di gestione, nonché presidente della SAC, Enzo Taverniti. Obiettivo dell'incontro? Presentare i futuri sbocchi professionali nel settore aeronautico, l'offerta formativa del corso di Ingegneria Aerospaziale di Enna e le prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale integrato della Sicilia sudorientale Catania-Comiso. Su quale aree si dibatterà inoltre e più giusto specializzare l'aeroporto comisano.